Siamo a sorpresa se sono pronti con le chat, ma non col microfono. Voi siete pronti ma il microfono... Allora qui iniziano a chiedere, di chiedere al mitico demotivatore che discorso avrebbe fatto all'Italia dopo la partita. Ma magari prima? O prima? Dopo secondo me una serie di cazzotti... Questa camicia è già di Ceturre. È un po' come sparare sulla croce rossa, anzi molto più divertente tra l'altro. Però io consiglio di far a tutti. Perché era allora questa cosa? Mascherato da cosa? Ecco perché guardavano... Ma è questa la notizia. Ah, ecco lì. Uno vince tutto in nero, passa la montagna nero, un po' sospetto sempre. Poi lì che cosa ci fa? Ma forse... Con me era Green's Man che scappava... Tutto nero con la maschera nera sul tetto di forse era... Zorro? Era Zorro. No, perché aveva scritto Isis davanti. No, ma è vera o è una battuta? È vera. Mi dissociamo. E soffendono quelli di Isis. No, non va proprio Ceturre, non va pronunciata la parola. Punizione. Vai Doku! Doku una lecce di Fumadu e la dà mezzo bene Doku! Oh no, come l'ha controllata con l'ascella? Però ha fatto un bel numero. Oh certo, se riesce a ricontrollarla... E OpenDAC non gliela ha ridata bene. Sto mandando a cagare chiunque gli passi di fianco, fra l'altro. È incredibile come siano sudati i giocatori belgi, nonostante non abbiano presente corso. Ma il tempo rimangono ancora 10 minuti, 200 sms e 10 giga di internet. Ghiallapa! Upame Canu! Upame Canu! Agile come una scogliera, appoggia il pallone ancora ed è Canté direi a naso. Bella! E' rimasto a che è in stanza? Con la testa e non... Sono davvero poche le probabilità che entrambe le squadre perdano. Eh sì. Eh sono poche sì, ma hai anche una percentuale eh? Eh 50% Addirittura? Eh mica sono poche allora. Sono poche, rivediamo... Come ha fatto a farsi male uno? No. Allungando la gamba? Ah no, verso cosa? Ah no, te a te, non lo so. Da solo, non correvo. No, vediamo, vediamo. Ah no, è la minchia! Inza a vederlo gli ha pestato il piede. Sarebbe sì, teoricamente da munizione, perché lo sapevo un futto a prescindere... Però era veramente girato. Sì, non ce l'ho neanche accorto. Gli ha dato sulla gamba per non dare nell'occhio. Sì. Si è rialzato comunque. Pestone su un malleo. Ma c'è una versione nuova di Tony che la dice e poi compiaciuto ride che non succede mai. Sì perché la capisco dopo. E non sei l'unico. Esatto. Anche qua Andrea. C'è un signore che sa per entrare a chiedere informazioni. È il negozio a fianco il signore, non è? Ma non ha rivoltella, non so se deve chiedere informazioni. Ma c'era Stefano Cagnoni che lo guardava a torvo attraverso la vetrina. C'ha poco da guardare a torvo. Cintille tra Mbappé e il numero 5. Vertonghen. Ancora Vertonghen. Vertonghen. Sì sì. È vecchia mia Vertonghen. Credo che ne abbia 37. Alfredo. Mi faceva già cagare quando ne aveva 25. Figuriamoci adesso. Guarda, guarda, guarda te come gli ha ridà. Guarda. Era fuori gioco tra l'altro. Bella. Dai, dai. Perché erano in tre. Non l'abbiamo sentito niente signora, non si preoccupi. Ci stanno salutando. Ma la signora si è scusata per qualcosa ma non abbiamo sentito niente. Era un allarme. All'allarme, no? Tranquillo. No, che cazzo, però un allarme. Ma insomma, stiamo lavorando e fai partire gli allarmi? Non ci eravamo neanche accorti. Rossi in avanti per Luca Cone. Scusi, signora, ma sta rubando il motorino? Vabbè. Ma sta rubando il motorino per quello. Per quello che suonava, no? Eccolo, vai. Questo è De Chetelare che corre. Ma è diventato biondissimo. Basta, adesso basta. Adesso, manca poco alla fine. Madonna, ma addirittura? Eh, vabbè, però incularcelo no, dai. Addirittura? All'ultimo cross. È l'ultima. Mancano 30 secondi. No, niente. Ciao, Griezmann. Esce a liberare. Mette la palla nella sua stanza, ad albergo. Bello! Colomoni! Mettendo le mani in faccia all'avversario. Non si è finita. Era fallo di Colomoni, dai. No, no, fallo contro. Messo la mano in faccia. Anche Ammonito. Il tottolino. Ma mangala, lì, mandala. Mangala. Mangala. Sì. E manca finita. Lo sguinfiato di botte. Mancano... L'hai bucato, mi sa, eh. Ma dove sta andando, guarda. Ti ha bucato? No. No, no, no. Manza, il consumo è resistente. Però vedo che non finisce qui la Kerel. Potrebbe continuare... Ed è finita. È finita così. Vabbè. E' finita così.